Max, abiti vicino a casa mia! Non ci posso credere! Oddio, vengo a trovarti! Marg, io avevo sentito parlare di te! Sto venendo, ecco, vedi, sono uscito di casa! Aspettami! Sono convinto che lo renderò davvero felice! Ammetto che sono un po' emozionato, ma sono arrivato! In teoria devo bussare qui! Sono Max! Sì! soltanto per l'osso la grano ora gobo a gontro ma bello esplorato il canto ma sia bene bene come aspetta ma pensavo fossi massimiliano il mio amico no ma che è massimiliano sono max sono youtuber il tiktoker